dei dubbi ammetici tipo funzioneranno crasheranno perché il mio computer eccesso è vecchio chi può dirlo e vediamo allora guido l'impero kingon ho fatto quei ricordi ma sto a prendergli schiaffi davvero tanti e quindi mi devo da anche la smossa con armi con wars pausa devo trovare una nave colonia questa no questa perché bene la faccio scendere qui e vi faccio costruire un outpost e questa cosa che tipo abbiamo qui da pure la moneta fast non fast allora ne hanno costruito uno qui abbiamo costruito metto sempre in pausa un clocking generation wow picchissimo warp, combat speed, size di storage che c'è? che ti fa dire? fai via che è non no no allora ora pensi che l'abbiamo a che poi schmini allora questa 10 volta qui ce ne avevano mille mille questi degli schiaffi dici diario che posso fare un'altra nave a 5 36 ma dizioni a 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 il prossimo caso face ha bisogno di costruire la roba che fa di mangiare sti stronzi c'è c'è proprio posto dobbiamo trasformare altri pianeti e farci fare da mangiare a bisogna sentire più o meno a ad essere presente il cibo posso ripulire questa fa ancora a me serve un pianeta abitabile un pianeta quasi abitabile un piano abitabile a 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 19 dai 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 ciao federica come mi sento bene spero a a chi sostengo ma ecco sostengo va 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 ok qui sono nooo speriamo lo spazio circostante il problema è che non produco abbastanza acqui alien vassos facciamo un vascello alieno in li faccio gli alieni in questa zona ok ce la fanno i nostri continuo a morire di parla qua stiamo ricercando comunque una nuova posizione la luce la allora bisogna partire il cibo qui non si è destacato un'intera flotta distrutta perfetto bravo questo uscino al posto qui almeno ci allunghiamo a la combe next stage ho bisogno disperatamente ora di rinforzare questi continuano ad andare su e giù all'interno del mio sistema e per vincere questa cosa devo avere almeno una unità che sia in grado di fare almeno mille danni e finché non succede siamo in grossa difficoltà benissimo 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 è abbastanza ciao un gioco d'attesa è molto no è in tempo reale vedi però è come se fosse a turni che metti pausa e fai sparire i turni è un mod di stellaris in cui puoi fare che cosa vuol dire che cosa vuol dire non sono più in guerra con loro infatti non è che non sono ancora in guerra con loro sono molto in guerra con loro non sono più in guerra con loro non sono più in guerra ah ci vuole un capito capito al level facility dove è un capito al level facility this building requires at least a one-level facilities to support it all facilities this and 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 edizione devo trovare il modo di fare del cibo and 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 Per esempio qui ci faccio un entro con il form Qui già c'è E poi diciamo 14 consumiamo 40 benissimo giusto una cosina da niente proprio Grazie a tutti Ok abbiamo Nuova ricerca Grazie a tutti 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 Bene Continua Continua Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie. Sto analizzando i pianeti, sto strunzo di navicella. 50 mesi prima di colonizzare Mashal. Allora... Chi ha preso la messa? 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 Allora... Prendiamo con i sogni! anzi mi piace con questi un po' semplice di scorzare sui metri caroni mi dà un fastidio e allora può essere niente ah cazzo così c'hanno 2000 transportation fleet mi invadono a boret stronzi maledetti a un po' semplice a un po' semplice a un po' semplice un po' semplice a ok io mica l'ho perso no allora saruna pente archer corbat beta hildor quanto settore sarà corat mat un settore idra char bovaret seti alfa ora questi hanno bisogno tutti di un cazzi governatore no ne reputo ok affermative affermative ok mentre quattro no questi che andano 6 su 14 14 questo 31 sector settings un po' grosso madonna che pollo di talche precisione detto questo può pure chiamare al pescara centro dov'è il numero eh immaginato affermative 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 non poi l'altro non è che ci ha bisogno non è il numero di non è che ci ha bisogno di fare un po' per gestire i settori infatti questo settore qui va bene in culo cuvatt kelmer dedra malina mempa uno gestito sul culos resta un bello cura c'è non posso ci un cazzo su questa cosa ci daremo la mancanza di gioco con un po' la mancanza di gioco il fino all'orio al sindaco e quindi meno in testa ma secondo te secondo me guarda ma poi mi sa che libri 0 g meno anche esiste grazie a mezza non, non mi dà dormire non grazie a tutti 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 non ce la faremo mai così però mai 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 proprio grazie a tutti 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 facciamo fast che sennò dove ce ne potremmo andare ce l'ha attivato il submo uh metro consortium abbiamo ok ora ok 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 questa è l'academy questa è il balista per due ma qui non c'è perso di un cazzo quindi buon mining station bye è un survey system così tanto per non so la legge scrive nell'attesa che si sorveglia 10 orche non 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 Affirmative. 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 Anomaly detected. Research. This is a large, expensive view. It is teaching. You can go from your body and take your clean. Research. 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 Information loft updated. Col!. Information loft laden состав. System survey. Complete. Construction Complete. Perfetto. 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 Guarda perdite. Una cila. Perfetto. icaid. Poi una rñelita. Perfetto. Poi una rin poisonedica. Ciao. 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 Theo. Ciao. un'altra cosa security of something out of the ordinary it's composition is to provide a up to our computers certamente no research ma che cazzo c'è scritto ah ecco perché ti riferivi alla fare queste cose motivational ok possiamo fare i disforzi scusami non ho capito un cazzo vabbè lo sai come queste cose a te avevo potuto intuire ok ok vabbè adesso però va un po' meglio l'ultima volta ok 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 Grazie a tutti. 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 Andiamo. Andiamo avanti un altro po'. No. 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 2 turni solito le faccio 30 90 sono 3 turni che è la possibilità di costruire un destroyer a 518 manca ancora un po per fare il piano destroyer non ma 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 ecco il nostro canale di stuare System survey complete. Tanti veneti abitabili non ne ho visti, vabbè che ce n'è stato un miliardo da esplorare. Tanti veneti abitabili non ne ho visto. Faccio tutto il giro al contrario allora. Faccio tutto il giro. Quarta scoperta che cosa ho sbloccato? Faccio tutto il giro. Faccio il giro. Faccio il giro. Faccio il giro. Faccio il giro. Ancora un po' bisogna costruire. Poi andiamo direttamente qui e ci faccio una base spaziale. Faccio il giro di aumentare il livello delle costruzioni possibili. guardate che è successo. Niente secondo me. Faccio il giro. 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 Vediamo quanti turni possono mancare a questa nave. Non ci pensare proprio minimamente. Ci sta già a pensare. Non ci pensare proprio. Miau cosa. Miau cosa. Miau cosa. Tutto miau. Come miau cosa. Come mi dici cosa. Questo è lui. Cosa è partito. Se no lo sei tu. Le storie di Instagram. Vabbè. Io intanto volevo chiedere. Beh. Che forse è una cosa migliore. Allora. Research. Dicevo. Stare basis. Ok. Faccio. 해�一直. Biai. Gratuità. Ok. 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 non ho capito però se questa può studiare delle star bases non ho capito ma cazzo si fa così le star basis ok il 10% ok 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 io capisco ma che deve rendere le cazzate comunque il letto di francesca il problema sono noi ma cosa ok ok quando mai sono state di noi il problema è lei ok 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 Grazie. 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 La fucka è lì non c'è nemmeno. Ah, il famoso Wentz. Al nord. con due liti ehm io voglio gli scondi e quello mi fai un cazzo a due terra qua ce l'ho appena messo io a due terra e l'ho pagato quello di meno non oggi and io l'ho ... ti aspettiamo di trovare un pianeta potenzialmente abitabile abbiamo la fazione spiritualista qua su Klingon, sempre male gli spiritualisti, male male grazie a tutti 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 bravo ilo 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 il 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 direi che qui ci vuole proprio sta io pensavo ci lanciamo stasera perchè c'è solo roba congelata a casa mia no volevo divertire il mondo una una un un Grazie. 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 Dove sono? Ok. Ok, nuova ricerca. Ok, trovati. Maledetto stronzo. Ok, nuova ricerca. Ok, nuova ricerca. Ok, nuova ricerca. Ok, nuova ricerca. Perfetto. Ok, nuova ricerca. 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 e 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 questo era fatta a pezzi come si trova? ovunque si trovi, vieni qui e 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 andiamo appena finisco sta battaglia e 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 ok e 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 vediamo 2 e 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 però se non l'annuncio società abbiamo scritto abbiamo scritto a e 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 che ne sai non c'è la squadra a e e e e e e e e e vedremo vedremo che vogliamo fare possiamo solo ridere quindi vuol dire che loro hanno pagato per che e 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 facciamo veramente stiamo alla frutta e pausa io voglio capire come cazzo si è un nome di contatti commerciali che ci deve stare un modo e 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 nessuno ancora e 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 l'ha scritto fra le magazine come se non avesse scritto nessuno e 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 noi te l'abbiamo avvertito e 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 come far passare la voglia a vanessa in due secondi bravi bravi ci sapete voi che fa no no scusateci eh possiamo solo imparare da voi proprio vero sono qui nell'albergo c'era la ragazza che era qua che aveva morto qui che erano solo loro già mamma mia che tu già stai qua di uno soccorso di uno soccorso adesso che c'è io la riunione con il presidente mamma mia le pensionaggio boh ci passa forte scusi è bruttissima si si sanno fare anche di peggio però noi ce l'avevamo viciuto e 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 che hanno una scuola ridicola su dove voglio mandare la propria mail no, io con queste cose non mi importo, capito? non mi importo, che mi fa incazzare se dicono la verità o no e per esempio, lo so che la terra non è una società che fa casino, 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 casino però se fanno casino su di me, che non è una cosa giusta e corretta prima direi basta, perché io sono così, non sono fatta di aspettare che loro, ah, tutto questo, no, 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 mamma mia si canzera con una iena lei non c'ha idea nel casino in cui si è andata a infilare non ha una idea persa a te fanno stesso casino lo sapevo, guarda che mamma mi ha andato a fa melona eh sì, quando c'è la classe l'abbiamo già visto e ovviamente ti dica che una bruttissima persona la vanno subito a valista e dice adesso ti devi abituare tu te ne sei liberata però avrai la maglietta cosa confetto bambina della prima comunione no, io mando a puntenza sì mi hai pensato la migliore mi hai pensato che da un lato si dico che sei una cogliona secondo me strano che non c'è chiamato quando sei della ternana la gente ti adora quando non lo sei ti spute in faccia no, lei ci ha detto che in albergo lì che si deve ancora incontrare col presidente è ancora firma nulla però l'hanno vista arrivare lì e quindi quelli lo sai come sono c'è giocato là grazie a tutti 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 quello è tutto diverso quello sì nel bene e nel male perché quando prenderai gli schiaffi dal mondo silvano poi come cazzo io racconti grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Tutti a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti.